allora con capitano esposito mezzo nudo spartenopei che passano il turno allora ragazzi io non è in campo brava ci insuliamo perché non si può guardare io non è in campo bozza che già se n'è andato però ma questo l'ha sostituito bene allora una parola su questi spartenopei che convincono contro i power ranger adesso chiacchiappate chi si prendono fate una proposta contro Savoia con calma tutti i giorni alle 3 e mezza base alle 2 e mezza con il marchio sullo stomaco non si può giocare a posto vabbè ragazzi